e salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina io sono insegnato e sono il cocco folle oggi voglio proporvi un altro piatto sfizioso a base di pesce pasta con tonno zucchine e limone ed ora introduciamo gli ingredienti per quattro commensali gli ingredienti sono i seguenti iniziamo col mezzo chilo di pasta io ho scelto pacchi di legati prodotto rigorosamente artigianale di gragnano quattro zucchine tagliate a cubetti 300 grammi di tonno in scatola sgocciolato io ho preso quello di qualità due limoni ho grattugiato la buccia e ho estratto e filtrato il succo della menta quanto basta uno spicchio d'aglio tritato sale e pepe quanto basta infine olio extravergine d'oliva in una padella con olio caldo facciamo soffriggere l'aglio una volta che l'aglio vi ho detto aggiungiamo le zucchine la buccia grattugiata di limone il succo di limone il sale per poi chiudere con un coperchio e lasciar cuocere a fiamma media a dopo acqua che bolle ho aggiunto il sale e un filo d'olio adesso caliamo la pasta dopo aver fatto cuocere circa una dozzina di minuti aggiungiamo il tonno poco prima di calare la pasta in padella aggiungiamo una parte della menta la pasta è pronta la trasferiamo in padella adesso aggiungiamo la restante menta pasta con tondo zucchine e limone questo è il risultato finale bene adesso assaggiamo e quindi buon appetito è fantastico si sentono i sapori dell'estate questa ricetta è meravigliosa deliziosa io vada suggerisco provatela e fatemi sapere come vi viene con questo posso concludere il video se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate condividete mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati se volete supportare il mio progetto potete acquistare il libro delle mie ricette le ricette del coco folle su amazon link giù in descrizione noi dunque ci vediamo al prossimo video ricordatevi che se vi sembra buono mangiatelo ciao 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 Grazie a tutti.